Da Cracovia, Bologna, Barletta, Canosa, Bari e infine Matera sono le tappe del viaggio di ritorno del Pullman messo a disposizione dalla ditta Auto, Linee e Nole, un viaggio organizzato dall'Associazione Italo-Ucraina di Puglia e Basilicata. All'andata hanno portato un carico di beni di prima necessità in una città al confine polacco-ucraino. Al ritorno il mezzo si è riempito di ucraini in fuga dalla guerra, alcuni dei quali sono arrivati anche a Matera in piazza Matteotti. Ci siamo, ecco anche un po' per coscienza, sentiti in dovere di organizzare, di fare qualcosa. Abbiamo chiesto cosa avremmo potuto fare e c'era necessità di andare a prendere dei profughi con destinazione ovviamente Italia da lasciare in diverse città italiane. Abbiamo dato subito la disponibilità a mettere un autobus con i nostri fondi, abbiamo avuto la disponibilità anche di tre autisti esperti anche del settore del noleggio estero, quindi linee internazionali, che anche loro volontariamente si sono subito offerti di partire immediatamente anche perché ci veniva detto che questi profughi erano già diversi giorni che aspettavano comunque un passaggio tra virgolette per l'Italia perché avevano dei contatti personali ma anche per il tramite dell'associazione su tutto il territorio. Oggi sono arrivati le prime persone, i familiari di un ragazzo che abita qua, sono stanchi, dobbiamo sistemare a dormire diciamo. Sono arrivati da Polonia e dopo Polonia sono venuti qua a Matera. Matera, Bari, Barletta, ci sono tanti paesi dove i familiari hanno aspettato i suoi vicini di casa. Ci sono, ci sono altri viaggi, sì, perché le persone ormai hanno bisogno di vivere tranquilli in tutto. Faremo senz'altro altri viaggi, ovviamente il problema è quello di poter accogliere questi profughi e auspichiamo che le amministrazioni, io so già che si stanno interessando diversi comuni, non ultimo mi sembra il comune di Ferrandina, ha fatto un avviso per reperire la disponibilità di immobili da destinare ai profughi, ovviamente sono disponibilità che devono guardare al medio e lungo termine e quindi compatibilmente con le disponibilità degli immobili noi siamo pronti per andare a prendere quanti più profughi possibile.